L'ho trovato in catenaia, il punto esatto, chi va a funghi non lo dice, comunque in catenaia. L'ho trovato insieme ad altri otto, tutti di misura eccezionale. Sono rimasto molto contento, sbalordito, perché non mi era mai successo. Una coppia di funghi porcini è con questo esemplare che Giuliano Lastra ha vinto il primo premio del fungo più caratteristico. Il primo premio per il porcino più grosso, invece, quest'anno è andato ad un esemplare di quasi 6 chili. Insomma, non poteva che essere un successo la quarantesima mostra micologica di Villa Severi, organizzata dal gruppo Bresadola in un anno che ha visto l'esplosione di funghi nei boschi e aretini. Questo è il secondo anno che ci riuniamo con il gruppo micologico, con il gruppo scout Cingei. E quest'anno partecipa anche il teatro dell'Ageggio. È stato così un pomeriggio dedicato alla natura, ma anche all'informazione su uno dei prodotti più amati della stagione autunnale, grazie al gruppo micologico di Arezzo. La conoscenza dei funghi nella città è aumentata moltissimo e questo è vera prevenzione. Fare una mostra dei funghi non è solo un modo per avvicinare l'utenza alla natura e al rispetto, ma è far conoscere quali sono i funghi commestibili, quali sono i funghi velenosi e insegnare quali sono le somiglianze per evitare intossicazioni. Spazio poi anche ai più giovani con il gruppo scout. L'ambiente, i boschi e la natura in genere sono il nostro campo di gioco, quindi avere conoscenza e coscienza di quello che troviamo, in particolare dei funghi, è essenziale sia per divertirsi a riconoscere le qualità e i pregi, ma anche e soprattutto i difetti, quindi è un'occasione di conoscenza reciproca e noi abbiamo organizzato una caccia al tesoro che si incentrerà soprattutto sulla crescere, la consapevolezza di questo mondo che è sotto di noi, ma insomma alle volte è a sciogliere e ci regala questi frutti incredibili.